E' mercoledì 1 agosto, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale in regia questa mattina, Nicola Passarelli in apertura, parliamo di sanità, la nomina del commissario ad acta e il dramma dell'uomo di Larino morto per emorragia cerebrale sono soltanto gli ultimi episodi di una emergenza, quella della sanità, ormai diventata cronica. Un comparto in sofferenza come Telemolisi ha denunciato negli anni e che oggi rischia di franare definitivamente per mancanza di risposte da parte dello Stato e degli amministratori. Ascoltiamo in proposito l'editoriale del nostro direttore Manuela Petescia. Sarebbe facile oggi, dopo la terribile tragedia di Larino, uscirsene con un «ve l'avevamo detto» e ricordare quante volte da questa emittente abbiamo lanciato l'allarme. Decine di servizi televisivi, editoriali, spot, proteste popolari, manifestazioni di massa, denunce civili. Abbiamo tentato di richiamare l'attenzione, a volte disperatamente, a volte nell'indifferenza pressoché generale, sui drammi che si annunciavano nei pronto soccorso, nelle corsie, nelle barelle ammucchiate in corridoio, sulle ambulanze a sirene spiegate in cerca di un ospedale dove dirigersi. E abbiamo lanciato l'allarme immediatamente, sin dai primi tagli, sin da quando i nostri amministratori hanno mostrato segnali di cedimento al diktat romano basato sul debito sanitario regionale. È una linea folle, una politica suicida. La negazione del diritto alla salute per onorare un debito insignificante, una goccia nell'oceano dei 100 miliardi che lo Stato spende ogni anno per la sanità. E infatti si muore. E quel debito sanitario, seppure fosse moltiplicato per 10, non colmerebbe il divario di infrastrutture, industrializzazione, aiuti di Stato, qualità dei servizi, rispetto e considerazione che da secoli affligge il nostro Molise. Abbiamo lanciato l'allarme all'epoca di Iorio. Lo abbiamo fatto a maggior ragione con frattura e continueremo a farlo con Toma, che ancora non mostra segnali di inversione di tendenza rispetto ai filosofi del pareggio di bilancio sul mercato delle disgrazie umane. Uno dei più tragici esempi di macelleria sociale. La classe politica molisana si è fatta forse trascinare per anni in una insensata diatriba pubblico-privato, rimbalzandosi le accuse, facendone strumento di lotta, disperdendo preziose energie. La verità è che in Molise non si muore perché il sistema sanitario favorisce il privato. In Molise si muore perché i fondi destinati dallo stato alla sanità sono insufficienti e male amministrati. Si muore perché manca ormai da anni una visione di insieme, un piano territoriale integrato dei servizi assistenziali. E le tragedie dovrebbero servire, almeno quelle, a far sentire il peso di certi episodi sulla propria coscienza. Per salvare una vita umana colpita da una patologia a tempo dipendente, in assenza di un livello minimo di organizzazione dell'emergenza, sarebbe bastato un elisoccorso. Nemmeno quello i nostri amministratori sono stati in grado di prevedere. Andrà in scena al Teatro di Pietra Abbondante domani sera lo spettacolo teatrale Moby Dick, La Bestia Dentro, firmato da Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino. Lo spettacolo sta facendo con successo il giro dei posti più belli d'Italia. Il 6 agosto sarà al Teatro Verde di Termoli. Ci dice tutto Marta Martino. La scenografia è d'impatto una baleniera con due alberi a vela, intorno alla quale si dispone il pubblico perché sia tutt'uno con l'equipaggio. Tutti compagni di un'avventura, l'aspettata caccia Moby Dick, la maledetta balena bianca cui Acaba ha giurato odio eterno fino alla morte. Un successo, l'ultimo lavoro di Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino per la regia di Davide Sacco e l'incredibile colonna sonora di Giuseppe Spedino Moffa che ha già girato mezza Italia, farà un paio di tappe in Molise e poi proseguirà il suo viaggio. Ho affidato la regia a un giovane napoletano che ha scritto anche il testo, Davide Sacco, traendolo ovviamente da Melville e ho due compagni di lavoro fantastici, come Gianmarco Saurino che secondo me diventerà uno dei più noti giovani attori italiani perché già è protagonista di tutte le serie da Che Dio ci aiuti 4, Che Dio ci aiuti 5, che è in lavorazione e che noi lavoriamo il sabato e la domenica perché Gianmarco in questo periodo è molto impegnato in televisione, non dirlo a mio capo tu e poi soprattutto c'è quello straordinario musicista che risponde al nome di Giuseppe Spedino Moffa da Riccia che ha creato una colonna sonora per questo Moby Dick straordinario, a me mi ha fatto ricordare la prima volta che l'ho sentito veramente i suoni dei Pink Floyd di Moore, suona 20 strumenti durante lo spettacolo dalla zampogna alle chitarre, alla fisarmonica, al gong, alle voci ed è veramente uno spettacolo nello spettacolo. Un brillante adattamento della storia di Melville, incentrata sul capitano Acab, personaggio che ha conquistato generazioni di giovani per la sua follia senile, tema che ha ispirato a Sabelli un trittico teatrale di successo, il Saul, Rellier e ora Moby Dick, un lavoro ricompensato con il riconoscimento del Mibact per il teatro del Loto. Questa occasione qua a Molisana ci dà l'occasione anche di festeggiare il riconoscimento che venerdì scorso ufficialmente il Mibact ci ha dato, assegnandoci ancora per un prossimo triennio ai fondi del FUS, anzi non solo ci ha assegnato ma ci ha dato un voto di qualità di 5 punti superiori a quello che prima avevamo e quindi davvero è un grande onore e anche in percentuale sono cresciuti un po' i fondi, non tantissimo ma sono cresciuti, il che vuol dire che abbiamo lavorato bene, insomma è una grande speranza per il futuro. Costruisci l'uomo che sarai e lascia a me quello che sei stato! I ragazzi molisani torneranno a scuola il 13 settembre, più sfortunati sono gli studenti di Bolzano a scuola già dal 5 in Friuli, Piemonte, Basilicata e Abruzzo si andrà a scuola il 10 settembre, via via tutti gli altri, gli ultimi saranno i pugliesi in vacanza fino al prossimo 20 settembre. Ed è tutto pronto a Frosolone per la ricorrenza del 1 agosto con la 42esima edizione dei carri allegorici, già dal pomeriggio si rinnova la perdonanza con il rito delle passate, a seguire la sfilata degli originali carri e la sagra del baccalà e peperoni, in serata l'orchestra popolare del salterello, già ospite del concertone del primo maggio, si esibirà in piazza Volta. Bene, è tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. Andiamo subito sulla home page del giornale del Molise, senologia, la protesta arriva in consiglio regionale, no alla chiusura del reparto, questo il pezzo di apertura, vediamo le altre notizie in evidenza, Quagliariello si assalvini sull'immigrazione, ma se dura l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, il centrodestra è finito. Gaetano Quagliariello, intervistato da Giovanni Minicozzi. Andiamo avanti con le notizie in evidenza, da Miranda non solo Tartufo, promossa a pieni voti, l'enogastronomia di qualità. Fimmolise, azzerati i vertici, salta anche Paolo Verì, nominato da Frattura. Andiamo adesso a Termoli, noi termolesi, scattiamoci una foto, il primo agosto torna l'appuntamento alla scalinata del folklore, la cronaca, operazione della Guardia di Finanza in A14, sequestrati oltre un chilo di cocaina e Cobret, c'è un arresto. E andiamo adesso su primo piano, Molise. Commissario della Sanità, il Consiglio fa voti al Premier. Con una, questo è il titolo di apertura, con una mozione la maggioranza chiede a Palazzo Chigi che l'incarico sia affidato al governatore Toma, scontro a Roma tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle, bocciato il documento che impegnava il Presidente a salvare senologia al Veneziale. Buone notizie, su Ilea il Molise è ok. Andiamo in taglio alto da Termoli con la cronaca, un chilo di coca in auto, arrestato dalla finanza, pusher settantenne, rimesso in libertà da Isernia, mio figlio morto a 40 anni per una diagnosi sbagliata, il racconto del padre. Si parla poi di trasporti autisti in sitting e alta tensione in aula, si parla sempre dei lavori del Consiglio regionale di ieri, poi la revoca, il Consiglio di amministrazione della FIM Molise, revocato da Toma e chiuso un caso politico. Scuole sicure, fondi per 58 istituti, scrive Primo Piano Molise. Andiamo a centropagina per parlare delle nomine del Governatore. Comunità Montane, Perrella, Mancini, Sciulli e Marinelli, i nuovi liquidatori. Ci sono state queste nomine da parte del Presidente della Regione, di spalla gli spettacoli, Monteroduni, parte Lady Lang, il 3 al Castello, suona Tochigno, Giobba Vota torna in TV, il coverman di Elvis al caffè di Rai 1. Poi parliamo ancora di una protesta davanti al municipio di Termoli, senza reddito, la moglie è malata e non hanno casa. La protesta di un uomo davanti al municipio di Termoli. Vediamo adesso le notizie di taglio sportivo. Circelli per il Lupo, un progetto pluriennale, serie D ad Agnone, Page sotto esame. Isernia, sabato il primo test contro il Fasano. Eccellenza Rocca Sicura, Colpaccio Maggi, Tasillo resta fedele al Boiano Futsal, Sporting Venafro, un altro botto, firmato anche Gianni Iacovino. E lasciamo primo piano e andiamo sulla prima pagina del quotidiano. commissario ad acta, l'aula spinge. Su Toma, anche qui l'apertura è dedicata al Consiglio regionale e ai fatti relativi alla sanità. Approvata a maggioranza la mozione pro governatore, critiche delle opposizioni. Sul piano trasporti, Niro indica gli obiettivi. Restiamo sul quotidiano, in taglio alto, conferenza delle regioni. Oggi il riparto delle risorse per il fondo sanitario. Livelli essenziali di assistenza, il Molise promosso. Supera la soglia dei Lea. Senologia a Isernia, la protesta di scena a Palazzo. Da Immo, torniamo a centropagina. ancora politica. Fimmolise ha zerato il Consiglio di amministrazione, nomine da rifare la decisione da parte dell'esecutivo. Poi la cronaca, centropagina. Morte dovuta a causa di servizio. La famiglia verrà risarcita con 481 mila euro. Campobasso si parla di un agente della Polizia Municipale. Le altre notizie che propone questa mattina il quotidiano. Istruzione in Molise, 199 assunzioni per personale di ruolo. Guglionesi dice no al centro migranti nell'ex hotel a Liope, da Campobasso, individuata la rapinatrice del centro fisioterapico. Da Trivento, omicidio, fossa cieca. Il processo si è arenato. Isernia, scuole sicure, dal MIUR, fondi per quattro istituti. Vediamo poi le notizie sportive. Primo incontro. Circelli, sindaco, si lavora alla convenzione. Stadio da Campobasso, con ferma vicina per Danuccia e del Prete. Trattativa in atto con Giancarlo in prota. Serie D. Lisernia mette le mani su Langellotti. Sabato test col Fasano, eccellenza. Colpaccio, Rocca sicura. Ecco, Maggi, Chiarella, Alriccia. E in chiusura della rassegna stampa dedicata alle pagine locali, diamo uno sguardo a futuro Molise. Sanità Scarabeo si proceda con urgenza. Alla nomina del nuovo commissario ad acta, il Molise non può attendere. Questo è il pezzo di apertura. Le altre notizie in evidenza. Ricorso contro la regolarità delle elezioni regionali. Scurti attacca il Movimento 5 Stelle. Mi hanno lasciato solo contro tutti. Adeguamento sismico delle scuole. In arrivo i fondi per quattro istituti superiori di competenza della provincia di Isernia. La giunta regionale azzera il Consiglio di amministrazione della Fimmolise. E passiamo adesso ai quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Crescita lenta, precari record, questo è il titolo di apertura. Si parla di dati, aumentano i contratti a tempo e la disoccupazione. Il PIL sale dell'1,1% rispetto all'anno scorso. Poi le notizie che riguardano la RAI, FOA presidente. Forza Italia non lo vota. Salvini, tentato, può restare lo stesso. Quindi il governo insiste su questa nomina. Restiamo sempre sul Corriere della Sera. Migranti riportati in Libia. Il giallo dell'italiana Asso 28. Si parla di una nuova polemica. Salvini dice operazione libica, Unione Europea e ONCHR indagano. Andiamo avanti con la rassegna stampa e diamo lo sguardo a Repubblica. Doppia apertura. RAI strappo del governo su FOA presidente anche senza i voti. Nomine schiaffo a Forza Italia. Beppe Grillo attacca i media sul caso Daisy era solo un uovo in faccia, dice Beppe Grillo. L'altra apertura invece di Repubblica questa mattina è dedicata ad una inchiesta molto interessante. Pronto soccorso. L'Italia del caos. Una notte in dieci ospedali tra attese di ore per la visita ai pazienti messi dove capita. Ci vorrebbe il doppio dei medici. L'inchiesta di Repubblica dopo il caso Cartoni di Reggio Calabria. Andiamo avanti con la stampa. Il quotidiano di Torino questa mattina sceglie di aprire sul tema Olimpiadi. Olimpiadi la scelta finale. Il CONI propone le Alpi. Torino dice siamo disponibili. Via libera alla candidatura unitaria con Milano e Cortina. Oggi la decisione. La sindaca Appendino dice una novità ai giochi nazionali ma si pronunci il governo. Lasciamo la stampa e passiamo al fatto quotidiano. Brizi va archiviato. Gli SMS delle ragazze lo scagionano. Questo è il titolo di apertura. Ora si parla delle molestie o delle presunte a questo punto molestie. Il PM. I messaggi dimostrano il sesso con attrici ai provini. Ma era consenziente. Restiamo sulla prima pagina del fatto quotidiano. E parliamo di Russiagate. Usa la lobby del Russiagate. Usò anche Alan Friedman e Romano Prodi. La rete ucraina. I dubbi sull'ex premier. C'è questo approfondimento che propone questa mattina il fatto quotidiano. Andiamo su uno dei due quotidiani romani. Il messaggero. Svolta migranti. Tornano in Libia. Questo è il titolo di apertura. La nave italiana Asso 28 con ufficiali di Al-Serraj. A bordo salva 101 profughi e li riporta indietro. Il governo accordi rispettati dall'Unione Europea. No comment. Una donna usa nella cabina di regia a guida italiana. Restiamo sempre sul messaggero. Frena il PIL. Manovra più pesante. Lavoro. Boom dei contratti a termine. Il tesoro si prepara a chiedere più flessibilità sugli investimenti. Poi a centropagina un approfondimento dedicato all'apertura domenicale dei musei. Musei addio alle domeniche gratis. I direttori dicono avremo più risorse. Si conclude l'iniziativa delle domeniche gratis nei musei. Lasciamo il messaggero e andiamo sulla prima pagina di Libero. La sinistra ci usa come carta igienica. Questo è il titolo di apertura. Parola di un grande africano. Il camerunense Otto Bitioka. Non dobbiamo farci strumentalizzare. Dice è meglio che pensiamo a far ripartire il nostro amato continente. Lasciamo libero e andiamo a dare uno sguardo alla informazione economica con il sole 24 ore. Passo indietro del PIL. Inflazione. Zona euro oltre la quota del 2%. Questo è il titolo di apertura. Poi c'è un importante approfondimento. Siccità impennata dei prezzi agricoli. Un approfondimento corredato da una cartina che ritrae l'Africa e l'Europa e che la dice lunga sui cambi climatici. L'Europa come l'Africa, scrive il sole 24 ore, la cartina termografica mostra l'ondata di calore. Passiamo adesso all'avvenire. Estate con il fiatone, scrive il quotidiano dei Vescovi. La crescita rallenta più 0,2% nel secondo trimestre. Caduta dai posti di lavoro più tempi determinati. Negativi i dati, scrive l'avvenire di giugno. Mentre si vota il decreto dignità, il vicepremiere Di Maio dice che questo decreto darà lavoro vero. Treudel-Knell pensa invece che sia di dubbia. Efficacia, restiamo sull'avvenire. A centropagina, profughi riportati in Libia, negato. Il diritto all'asilo, la denuncia, salvataggio da parte di una nave italiana coordinato da Tripoli. Lasciamo l'avvenire, andiamo sulla verità. Emergenza anziani, il vero razzismo. Questo è il titolo che fa il quotidiano di Maurizio Belpietro. Mentre il PD e i giornalisti di complemento montano la panna sul finto episodio xenofobo di Moncalieri, ogni giorno i nostri vecchi sono vittime di violenze, spesso a opera di stranieri, senza che nessuno fiati. Poi, sempre sulla verità, una notizia che determina una inversione di tendenza rispetto al passato. Reversibilità anche ai conviventi per favorire i gay, scrive la verità. I giudici scassano i conti dell'Inps. La corte d'appello di Milano assegna la pensione a un uomo che non aveva contratto unione civile. A una vedova di Nassiria, invece, era stata negata. Lasciamo la verità e andiamo all'altro quotidiano della capitale. La casta salva le super ferie, tutti al mare, scrive il Tempo. Altro che sforbiciata per i parlamentari più di un mese di vacanze, d'altronde hanno lavorato addirittura un giorno su quattro e a volte persino per tre ore, scrive il Tempo. Prima di partire, poi aggiunge, Lega e Forza Italia provano a non dirsi addio sulla RAI. E dal tempo passiamo al mattino di Napoli. Rifiuti e incubo, emergenza questa l'apertura. Cumuli in tutta la campagna, l'allarme di De Luca, servono almeno dieci impianti. Ma la crisi è globale dopo il giro di vite delle discariche cinesi su ferro, plastica e carta. Il mattino ospita poi un'intervista a Silvio Berlusconi che dice con i grillini, il sud resterà senza lavoro. Restiamo sul mattino, in taglio alto. Dela si prende il Bari, Avellino, addio alla Serie B. Si parla quindi di calcio e affari. Dopo il mattino passiamo al manifesto, respinti all'inferno. Questo è il titolo di apertura che fa il quotidiano comunista. Una nave italiana riporta in Libia 101 migranti. È la prima volta che succede e il salvataggio potrebbe essere in realtà un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. Frato Ianni Dileu, dalla Open Arms, accusa Roma. Ma per Salvini è tutto regolare. E dal manifesto andiamo al secolo d'Italia. Non è razzismo, scrive il secolo, riprendendo la polemica relativa al lancio di uova nei confronti dell'atleta Deisi Osakue, l'azzurra di Atletica. Vediamo le altre notizie in primo piano. Grillo fa l'incendiario, razzismo e attacca. I media, nessun respingimento. Salvini smentisce le ONG. Si parla poi di dati, sale la disoccupazione sui contratti a termine. E come di consueto adesso chiudiamo la nostra rassegna stampa dando uno sguardo alle notizie sportive con la Gazzetta dello Sport. Si parla di Iguain in apertura. Frena la mega trattativa, scrive la Gazzetta. Iguani, questo il titolo di apertura. Il Pipita ora detta. Le condizioni chiede alla Juve di essere ceduto a titolo definitivo e vuole dal Milan un ingaggio di 9 milioni di euro all'anno. Bene, si chiude qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'agurio di una buona giornata. Grazie. Grazie.